Il mio metodo è quello che voglio passare anche a voi, è un metodo di assenza di giudizio. Che vuol dire però? Vuol dire che anche voi dovete avere il coraggio di non giudicare i vostri suoni mentre li fate. Il suono della maschera. Sono dei suoni orribili, non sono dei suoni terminanti. Nello stesso modo non dobbiamo giudicare anche il discorso che dicevo prima, ma cioè per esempio sì, ok, effettivamente sto studiando pochissimo, effettivamente mi sto dedicando poco alle cose. Quindi non vuol dire oh mio Dio mi autoflagello, che brutta persona. Vuol dire ecco perché probabilmente alcune strade non mi riesce aprirle per bene, è perché semplicemente non sto facendo abbastanza lavoro, vi ricordo che ho un lavoro muscolare. Io devo iniziare con gli esercizi di disblocco del respiro e di apertura, assolutamente, con molta calma. Se tu per cercare questo hai bisogno di fare e ti serve di farlo e di rifarlo dieci volte, lo fai. Quando senti che le cose funzionano, che sei allineata, che hai parlato su, allora vai avanti e solo allora. Andiamo alla voce mista, tipo Ma più andiamo avanti, abituatevi a separarle le cose, abituatevi a separare la respirazione e quindi a controllare quando qualcosa non funziona e in quale settore non sta funzionando. Non sta funzionando la respirazione, non sta funzionando nell'apertura, non sta funzionando nel passaggio, non sta funzionando nella maschera. Se io vado a mettere insieme maschera e voce mista, cosa sto succedendo? Come faccio la sirena che ho fatto un attimo fa. Fammi fare un check, perché l'aria la sto mandando. Ok, la gola, quanto è impegnata nella ricerca di questo suono, no? Quanto è aperta la bocca e quanto la sto spingendo in avanti verso questa zona faringea intensa, che è la zona del twang, per me questa è la nota precedente alla nota di passaggio. Fin qui tutto bene, va su tranquillo, ma se devo salire ancora, cosa devo ricordare? Che la zona di passaggio richiede di pensare piccolo, richiede di pensare che le corde si fanno più sottili, che non posso andarci con tutta la bota, quindi l'aria, c'è un grosso ingaggio, come sempre detto, dal punto di vista del sostegno, ma attenzione che non posso buttare un rocciolone d'aria, perché deve passare da un buco piccolino, quindi questa è tutta l'idea che mi serve. Allora, se io sto facendo, cosa sto facendo? Dove sto sbagliando? Quindi da che parte devo lavorare? Sarà, manda l'aria, ma ricordati che lo spazio lo devo pensare piccolo, spalanca qua. Provate a pensare a clessidra, sotto è gigantesco, qua è inesistente e qua è dove esplode il suono. Ok? Quindi... Ok, adesso l'ho fatto. Sono passata, ho lasciato che il suono fosse piano e ho sentito il suono gigante qua grazie alla risonanza. Se qualcosa non funziona, devo sempre ricordarmi a quale livello, a quale kit si sta incasinando il lavoro. Grazie a tutti.